Ok, iniziamo subito con dei problemi alla connessione Però è appena iniziata la festa Sono dentro la... La foresta infinita Che è stata trasformata appositamente per questo evento E ho la maschera Sono fatto così Adesso Se riesco a caricare... Eccolo lì Con la faccetta Del maestro Raul Bene Allora E' interessante come cosa Andiamo a vedere Andiamo a vedere cosa ci... Voglio vedere un po' Tornare E' precipitato Qualcuno... Ok, tutti con ste maschere Nooo Sono caduto come un pirla pure io Ok, iniziamo benissimo Stai visto? Mamma mia Ok Partiamo Vediamo cosa succede Dai Pensavo che... Sarebbe stata una cosa da fare da solo E invece no Si fa squadre Sarà come un assalto Però speciale E questa cosa qua è bello Tra l'altro è bello viverlo anche in diretta Così Su Andiamo a vedere chi c'è Oh, c'erano tanti Quanti è incazzati Guarda le zucche Non si può fare niente Nel zucca Guarda che storia Che settacolo Vediamo In cosa consiste tutta la storia Ci sono varie attività da fare Ma questo è l'inizio Si prende alla torre Questa missione si fa Dalla torre Ehi, aspettatemi Eccolo qua Eccolo qua Sarà un periodo interessante qua Sì a fare live Andiamo a vedere Cos'è sta roba Ah, valuta Io mi perdo a guardare le cose Meno male che sono gli altri due che sparano Ok Ok, vai da munizione Eh, ciao Ok Le munizioni pesanti Non scarseggiano L'emblema Ok Non mi ha fatto raccogliere le cose Per colpa della connessione Ah, no Meno male Meno male Grande destine Guarda che storia No, ma perché deve darmi problemi di connessione Proprio adesso Sembra fatta apposta Già ci ha messo una vita A riuscire A fare la copia delle cose Ok Ha iniziato già Nella torre Però nella torre Di solito è un po' più Pesante E normale Giù Fortuna Non so Che sto raccogliendo Ah, e basta Questa è connessione Però Non vedo che non raccoglie Andiamo fuori La pistola Uh, che trappolone Ma dove c'è il zucco in giro Ok Ok Adesso Che è iniziata Da poco Ne recuperiamo tutto Oh, giusto una mitraglietta Che mi serve per fare Poi No Oh, che c'è ora Oh, qualcuno è caduto E' iniziata Che ho capito io Recuperare tutto Ok, incubo Tutte le volte che succede qualcosa Mi rompono i coglioni server attrito non mi ricordo più qual è ma guarda le storie è tutto buio ok c'è un po' di luce io con la pistola sono perso ah ok di qua i cani ma c'è un buco qua sotto c'è quella roba che cavolo è immune ci dà ancora la caccia qual è a fare culo dove si fa oh finalmente la foresta diversa comunque ok monete tutto spiano e di nuovo il server porco giù ogni volta che apriamo la porta cosa era sto verso giù giù no eh mi terrorizza quando vedo la scritta dei server ok è un incubo che si ripete all'infinito guarda che storia se no sembra veramente sempre diversa monizioni 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 pesanti le danno parecchie il trappolone di nuovo che cosa che lampeggiano ogni tanto mi distraggono no no di nuovo vedi che avvicino la porta perchè tutto al contrario sembra di farne al contrario forse alcuni tratti dunque è veramente interessante ok ricopriamo monete tutto no non mi fare la porcata adesso di sconnettere voglio capire dove vuole andare a parare ci manca qualcuno sai che non ero l'unico ah no sta arrivando bel mix di nemici no di nuovo dove cavolo siamo non li vedo sti cazzo di schiavi no oh rimorto ah 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 va a recuperare tutto in fretta guarda che storia ah ah abbiamo tre minuti di tempo per arrivare da qualche parte ah ho capito forse dobbiamo farlo in meno di 3 minuti qualcosa del genere e ogni volta che apriamo la porta c'è un problema di connessione ah però qua ah bisogna farlo in fretta ok ho capito voglio eliminare gli stronzoni che bloccano la porta prima che la vedo in mano no è non mi farga vai du du fortuna mi si ricarica nel fretta no Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, ci sono gli stronzoni duri che ci tengono bloccata la porta e quindi... Non so, non so, ramo 6. Che cavolo sono? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, peccato lui. No, di nuovo è sana. Non capivo da dove si passava, ma adesso non c'è più il tempo. Ok. Ok, 100%. No, mi hanno alzato. Sono distratto un secondo. Grande. No, mi hanno alzato. No, mi hanno alzato. ecco si ha venuto in griglia Ok la sotto deve essere un bel inferno c'è lo scherzetto finale poverino è rimasto la sotto ok strana moneta va benissimo bene ragazzi bene funziona veramente bene un secondo metto un attimo il microfono ok si ricomincia se tutto va bene dovuto togliermi se non so se riparte la foresta infestata però voglio rifarla così tanto per vederla bene e poi intanto mi dà le monete ah ok adesso andiamo su cosa parte ma che storia provo a ricaricare un attimo la pagina che sembra che ci sia qualche problemino aspettiamo ok scrivevo il messaggio di saluto solo ok adesso si ricomincia ah sono già avanti loro dove si passa ehi aspettate mi ha fatto iniziare sicuramente un'altra partita già iniziata adesso li raggiungo raccogliendo palline qua e là che servono sempre guarda che storia mi piace però è simpatica sono io il mostro il vostro incubo ok 100% maledetta maliarda non la vedo che è lo strotto che mi spara vai giù bene bene munizioni roba porcheria recuperiamo tutto ok comincio a pensare che attenzione alla connessione dei server faccia parte della dell'evento ok si parte laggiù c'è la porta i rami mi stavo per incastrare qua è la porta vai da munizioni ok di là qualcuno l'ha trovata no dov'è che si passa di qua si guarda che storia sempre diverse comunque vabbè sarà un numero limitato però per adesso mi confonde abbastanza facilmente ok ok no di là si prima esparato merda non l'ho visto arrivare ti fa proprio ricominciare dall'inizio quando sei c'era una moneta potevo prenderla vabbè devo vedere bene poi appunto come usarle il ramo stavolta l'ho preso non ho capito cosa c'era rientro limitato cazzo dove siete uno stronzo immune suga e allontanare prima che arriva lui cazzo dove andare dov'è lui lui è sempre qua in agguato cazzarola vai che arriva io continuo a far salire sto coso se riesco attenzione attenzione che a quello non si fa niente no no ok centro a Grazie a tutti. Oh, bravi, si mettevano già a mucchio per farmi il piacere. Ma che storia. E vai. No, la connessione è cerda. Ok. Serio però? Adesso stacco. Mangio e poi torno più tardi. Rami completati due. Sono entrato neanche nel momento giusto. Via, torniamo in orbita. No, fermo lì. Ok. È simpatico comunque. Mi piace. Adesso poi voglio vedere anche le altre attività, ma me le tengo per dopo. Ok, la connessione serve sempre così. Perché ci sarà tantissima gente all'interno. Comunque, niente. Ci salutiamo e a più tardi. Quindi, ciao a tutti.